Ciao ragazzi! Voglio mostrarvi una cosa che faccio a ogni colazione. Praticamente ci serve un po' di zucchero. Così. Lo facciamo cadere dentro il pugno. Poi prendiamo la carta, la lasciamo dentro, così. Premiamo bene bene bene. E in uno, due e tre. E guardate, è tornato a posto. A presto e buon allenamento con Mirrorable.